Benvenuti signore e signori, questo è Movida Loca, incredibile! Siamo ospiti del sito Firenze Fuori e ne siamo orgogliosi ed emozionati. Questo è un po' un continuo con quello che fu Vida Loca tradotto nella Movida. Perché Movida? Perché Firenze va vissuta, va vissuta per venire, non ci garba, questa cosa anche per poter descrivervi alcuni degli eventi. Ma in realtà quello che noi vogliamo fare in questa piccola rubrica è rinverdire alcuni fasti. Dei fasti che per esempio vanno a rinverdire, mi richiamo a Boboli, Boboli? Boboli, Boboli sarà se progettavano altri, sarà chi? Allora, sarà io, i Bontalenti, i Passavanti, i Falugi, i Brogi, i Vanni, i Parciani, i... Affarmerende soprattutto, ecco appunto. No, dicevo questo, caro Bardelli, perché lei mi insegna che Firenze è ricca di eventi, è ricca di possibilità. Se lei va in Bargello uno di questi giorni, venerdì prossimo, il primo agosto, c'è il concerto dei saxofon quartet che mi fanno piazzolla. Bravi, ma piazzolla, c'è il tango, io ho fatto il tanghista, il tanghieri, il tango l'alzero un bel pallone negli anni settanta, c'è se ce l'ha fatto, leggero, eh, però quando parlava, guarda la volava. E il super tele era leggero. E il super tele era un malaccio, sì. Va bene, allora, direi di collegarci adesso, caro Bardelli, con un personaggio che lei non ha mai visto e non conosce, che, no, siccome l'estate, a cosa porta? A Staleggio. A in mare, porta in mare. No, a Staleggio. Stai, Cardo? No, sta... Porta... 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 Porta della miseria, mi fai parlare. Dicevo, porta ha un'alimentazione fresca, leggera, delicata, adeguata. Lei, mi sta attento a che roba a dire. Quindi andiamo da Alfio che ci insegna qual è la cucina estiva per eccellenza. Tu vabbè la sentita qua. Ma che bello, ma... Oh, Alve, Alve, come va? Ma io bene, lei mi sembra bene. Ah, no, non so. Ma insomma, località fantastica su in mare, bellissima. Cioè, il mio ristorantino Summer Restaurant Alfio's. Ma scusi, però lì, lei in mare, noi si parla di Firenze, le cose... Ah, buon osso! Mamma mia... Ammirammetterà, tanta rovina. Aglio sopra. Ecco, appunto. A strafo, anche quello lì, congelato sopra. Ghiaccio, piattino fresco, si consuma così, leggero, leggero, leggero. Come si parte male, quindi l'aglio, ghiaccio e rinfresca. Eh, certo, l'aglio, ghiaccio e quello che rinfresca. Eh, lo fa, eh. Va rosecato. L'olosia, l'olosia. Va bene, poi... Dio. Beh, poi che c'è? Poi c'è, allora, ribollita. Attio, si è parlato di menù estivo. Menù estivo, ribollita. Ma di, eh, ribollita fa un cardamore. Rubetto congelato di ribollita. Anche. Viene servita con scalpello e martello. Sì. E uno fa ta 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 ta. E si fa la scultura. Bravo, e la gente l'è contenta. Sì, sì. Ah, voglio, so. Capita, va bene. Rinverdire i fasti scultori. Ma che scherza, davvero, eh. Mi sembra giusto. Ci abbiamo anche un desertino. Pili, 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 pili. Ci abbiamo anche un desertino. Desertino, tranquillo. No, così, no, così. C'ho profiterol rassegato all'interno con mille foglie di accio marmato con gelato a bollore. Oh, qualcosa di hard? A bollore, proprio schiantato così. E giù un rum a cadere così la pioggia. Flambe. Quindi, o buono o non buono. Pili, 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 pili. Alfio, scusi, ma che sta facendo? Cos'è il pili, pili? Cosa? Cosa stai? O di tanto chiama, pili, pili? Eh? Il che fa? No, sto cercando, sto facendo una caccia, ma quello che è un altro piatto e faccio io un carpaccino favoloso. Pili, 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 pili. Ma che è il pili, pili? Lo sai? Carpaccio di Campiano, bono, favoloso. Con le zampine per dire, di, 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 di. Ma non si fa sta cosa, dai, poi c'è la lipo, la lipo si incazza. C'è crisi, c'è crisi. Eh, ho capito, ma non si può. Senta, dicevo una cosa, ma se io dovessi venire lì dalle sue parti, ho detto. Dica, dica. È che come... C'è tutto, c'è tutto, c'è problema. Tende, spiaggia, sedie, che la vuole? Il burcello, che la vuole? No, ma se io... A sdraio per star lì davanti. Alfio! Un po' di luce. Alfio! Dica. Ce l'è tia. A voglia. Ah, bene, allora ci si vede presto a Marina di Rifredi. Come l'arena, a chi chi? Ci ho degli amici, verranno con me a trovarmi. E c'è ridere. A rivederla. Buona. C'è crisi. Ciao Alfio. Ciao a tutti gli amici di Movida Loca. Ci si vede alla prossima. Ciao. Stay tuned.